scorsi anni che ha un significato tradizionale e anche di ricerca da un altro lato e poi di nuovo 1 2 3 4 2 diventa da 7 e poi due in giusto perché sud ovest va a nord est un po' di tutti i campi di superiore Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.